Lo scopo dell'incontro di oggi organizzato dalle associazioni di consumatori dal Codacons insieme all'Adus, BF, Codici, Udicon, Cittadinanza Attiva e Conf Consumatori è quello di affrontare un tema di grande attualità per i consumatori, in generale per lo stile alimentare che è quello del Nutri-Score e del Nutri-Inform Battery, cioè i due sistemi nuovi di etichetta nutrizionale che l'Europa vuole imporre, già per il vero da qualche anno, per armonizzare la normativa di settore e per dare un'immagine immediata al consumatore, quindi con un simbolo sul fronte delle confezioni, sulla parte anteriore delle confezioni, affinché i consumatori siano orientati nell'acquisto dei cibi che abbiano le qualità nutrizionali migliori. Il Nutri-Score è un sistema voluto dai francesi, ideato dai francesi, il Nutri-Inform Battery e il sistema italiano. Hanno una grossa differenza perché il Nutri-Score è una sorta di semaforo a colori che indica, appunto, a seconda del colore, dal verde al rosso, se un determinato alimento ha maggiori qualità nutrizionali, quindi proprietà nutrizionali, rispetto ai contenuti sfavorevoli, cioè quelli più dannosi per la salute. Il Nutri-Inform Battery è un po' più complesso perché è una sorta di pila, di batteria, che in base a una serie di parametri stabilisce senza dare un'etichettatura, cioè senza dare un giudizio sull'alimento, quali siano le proprietà nutritive e le qualità nutritive di un determinato alimento. Quindi entrambi sono delle semplificazioni. Noi come associazione di consumatori siamo abbastanza critici su questo sistema perché se è vero che il consumatore moderno che non ha molto tempo per leggere le etichette obbligatorie, quelle sul reto del prodotto, ha necessità di un'informazione chiara e immediata, diretta, per potersi orientare all'acquisto del prodotto che faccia meglio alla propria salute, che quindi cremi in ordanno. È anche vero che una semplificazione è strettamente riduttiva, cioè estremamente riduttiva, può creare dei problemi perché mettere un bollino rosso a un prodotto, per esempio il parmigiano reggiano o altri prodotti tipici pugliesi o nazionali, significa non solo scarroggiare il consumo di quel determinato prodotto tipico della tradizione pugliese o italiana, quindi con danni all'economia locale e all'economia nazionale, ma significa anche bollare per sempre un prodotto come un prodotto dannoso per la salute quando in realtà non si è tenuto conto di una serie di parametri importanti, quale per esempio il tipo di lavorazione, di processo subito dal prodotto, perché molti prodotti che per il Nutriscore sono verdi, cioè hanno la lettera A come prodotto salutare, in realtà sono ultra processati, contengono degli additivi che sono fortemente dannosi per l'uomo, per ciascuno di noi, al contrario prodotti di massima lavorazione, di ottima lavorazione come il parmigiano reggiano viene bollato con il colore rosso. Noi suggeriamo, noi come associazione di consumatori riteniamo che l'etichettatura sia uno strumento insufficiente per orizzontare il consumatore verso scelte consapevoli e scelte salutari. Noi riteniamo che il percorso maestro sia quello dell'educazione all'alimentazione che deve essere imposto come materia didattica nelle scuole, già a partire dalle scuole superiori riteniamo, e soprattutto sia necessario l'introduzione di una figura del nutrizionista come figura medica fondamentale da affiancare al medico di base in ogni ambulatorio, accessibile a tutti i cittadini, affinché il nutrizionista possa fare delle diete ad persona, perché non esiste una dieta che valga per tutti, è necessario che ci siano delle diete modulate e formulate sulla base delle esigenze dei singoli consumatori.